Se si desidera personalizzare la propria home page in ePassan Manager, si inizia facendo clic sul simbolo più accanto alla dicitura, Scorciatoia. Inserite quindi un nome per il collegamento che state creando. Selezionate la dimensione del pulsante, e assicuratevi che la casella visualizza sulla home page, sia selezionata. A questo punto, fare clic su Aggiungi e gestisci menu, e poi su Aggiungi. Selezionare quindi le singole scorciatoie, facendo clic su di esse una per una, o semplicemente premendo CTRL sulla tastiera, mentre si fa clic per selezionare più scorciatoie. Infine, fare clic su Salva. Le scorciatoie selezionate dovrebbero ora apparire nella home page.